salve ragazzi e bentornati sul canale in questo video vedremo come collegare un monitor esterno al nostro laptop dei benefici che ne derivano e dei vari metodi per farlo ma prima di iniziare ricordatevi di lasciare un mi piace al video ed iscrivervi al canale per non perdervi i nostri video tutorial iniziamo parte 1 la necessità di collegare un monitor esterno o uno schermo al vostro laptop perché potreste aver bisogno di collegare un monitor esterno al vostro laptop ci sono diverse ragioni ad esempio potreste aver bisogno di un display più grande per lavorare su documenti complessi o per fare presentazioni o magari desiderate collegare il vostro laptop a un televisore per guardare film o serie tv in streaming in ogni caso un monitor esterno può fornire un'esperienza visiva migliore e più comoda rispetto al vostro schermo del laptop parte 2 i vantaggi del collegamento di un monitor esterno al laptop quali sono i benefici di collegare un monitor esterno al laptop in primo luogo potrete lavorare in modo più efficiente con un display più grande potrete visualizzare più finestre e applicazioni contemporaneamente migliorando la vostra produttività in secondo luogo potrete godere di un'esperienza visiva migliore grazie alla possibilità di regolare la risoluzione e la qualità del monitor esterno infine collegando il vostro laptop a un monitor esterno potrete anche migliorare la vostra postura o ridurre lo stress sui vostri occhi e sulla vostra schiena parte 3 cose da tenere a mente prima di collegare il laptop a un monitor esterno prima di collegare il vostro laptop a un monitor esterno ci sono alcune cose da tenere a mente innanzitutto dobbiamo assicurarci che il nostro laptop abbia le porte necessarie per il tipo di cavo che intendiamo utilizzare in secondo luogo considerate la risoluzione del monitor esterno e la capacità del vostro laptop di supportarla infine verificate le impostazioni del vostro laptop per rassicurarvi di utilizzare il monitor esterno come display principale o come estensione del display del laptop parte 4 come collegare un monitor esterno al laptop ci sono diversi modi per collegare un monitor esterno al vostro laptop ecco alcune opzioni metodo 1 utilizzare un cavo hdmi il modo più semplice e comune per collegare un monitor esterno al laptop è utilizzare un cavo hdmi collegare un'estremità del cavo hdmi al monitor esterno e l'altra al vostro laptop quindi selezionate l'input corretto sul vostro monitor esterno e regolate le impostazioni del display del laptop metodo 2 utilizzare il display port se il vostro laptop e il monitor esterno dispongono di porte display port potrete utilizzare questo metodo collegare un'estremità del cavo display port al monitor esterno e l'altra al vostro laptop quindi selezionate l'input corretto sul vostro monitor esterno e regolate le impostazioni del display del laptop. Metodo 3 utilizzare un cavo usb di tipo c. Se il vostro laptop supporta la connessione usb di tipo c potrete utilizzare questo metodo per collegare il monitor esterno. Collegare un'estremità del cavo usb di tipo c al monitor esterno e l'altra al laptop. Assicuratevi che il cavo sia in grado di trasferire video e audio quindi selezionate l'input corretto sul vostro monitor esterno e regolate le impostazioni del display del laptop. Metodo 4 utilizzare un adattatore. Se il vostro laptop o il monitor esterno non dispongono delle porte necessarie per i metodi precedenti potreste aver bisogno di utilizzare un adattatore. Ci sono vari tipi di adattatori disponibili a seconda delle porte di ingresso e uscita necessarie. Collegare l'adattatore al vostro laptop e quindi collegare il monitor esterno all'adattatore. Selezionate l'input corretto sul vostro monitor esterno e regolate le impostazioni del display del laptop. Metodo 5 utilizzare un display link. Infine potreste utilizzare un display link, un dispositivo che si collega alla porta usb del vostro laptop che consente di collegare un monitor esterno. Collegare il display link alla porta usb del vostro laptop e quindi il monitor esterno al display link. Regolate le impostazioni del display del laptop come preferite. Se invece il monitor del nostro pc non dovesse funzionare e l'immagine venisse trasmessa solo sul display esterno allora potremmo avere qualche problema di driver o di hardware. Siccome di solito l'utente medio in una situazione del genere tende ad eseguire una formattazione del pc allora è possibile che senza volere si cancellino i dati. In questo caso potremmo utilizzare un programma chiamato Wondershare Recoverit che aiuta a recuperare i dati apparentemente persi o cancellati. Vediamo quindi come utilizzare questo programma in pochi e semplici passaggi. Apriamo Wondershare Recoverit e selezioniamo dall'interfaccia principale un dispositivo sul quale vorremmo effettuare la scansione ad esempio una chiavetta usb o un hard disk. Clicchiamo su scansiona per avviare appunto la scansione. Il programma cercherà i file che sono stati cancellati dal nostro dispositivo di archiviazione. Possiamo scegliere di arrestare la scansione in qualsiasi momento nel caso avessimo già visto nell'elenco il file che ci interessa recuperare. Quindi premeremo sul pulsante Pausa. A questo punto per recuperare i file che ci interessano dovremo porre una spunta nell'apposita casella a fianco al nome del file. Possiamo selezionarli tutti oppure solo alcuni e poi premere sul pulsante Recupera. Scegliamo quindi la directory dove salvare il nostro file recuperato. Possiamo anche creare una nuova cartella. Ora premiamo su Recupera. I file che sono stati recuperati verranno salvati all'interno di questa cartella. Se andiamo a riprodurre il file che abbiamo recuperato possiamo verificare l'effettivo funzionamento. Abbiamo visto i vari metodi per collegare un monitor esterno al nostro laptop. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video ed iscrivervi al canale per non perdervi i nostri lavori futuri. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!